Ben ritrovati da Mete in Calabria.it Oggi ancora bel tempo ma da domani nelle ore centrali Breve peggioramento per il transito di una goccia fredda in quota Vediamo quindi le mappe in dettaglio Oggi sereno poco nuvoloso su tutta la regione Temperature stazionari e clima freddo nelle ore notturne Domani generalmente poco o parzialmente nuvoloso Nelle ore centrali però breve peggioramento a partire da nord Con rovesci sparsi e qualche fiocco di neve Oltre 1000-1200 metri su Pollino e Sila Temperature massime in calo Vediamo ora invece come si comporteranno Mari e Venti Oggi calmo poco mosso il Tirreno Mosso o molto mosso lo Ionio Ad eccetto del Golfo di Corigliano che risulterà poco mosso Venti deboli o il più moderati da quadranti settentrionali Domani mari calmi o poco mossi Con venti deboli da quadranti settentrionali Per ulteriori dettagli consultate il nostro sito www.meteoincalabria.it Anche per oggi è tutto Grazie per la cortesia attenzione Appuntamento a domani